La costituzione di un'autorità in supplenza di una pubblica amministrazione inefficace e inerte di fronte al fenomeno della corruzione. Questo lo stato dell'arte in Italia, secondo Antonio Coppola, presidente dell'ACI di Napoli, in occasione del convegno alla trasparenza e la prevenzione nell'attività di governo della pubblica amministrazione. Ho denunciato oltre dieci anni fa che nel settore delle revisioni c'era un buco che riguardava la legge perché notoriamente si sa che molti non sottopongono la propria autovettura a revisione però in qualche modo riescono a procurarsi il tagliandino. Quindi abbiamo avuto la riprova di quanto dicevo, io mi sarei aspettato qualche anno fa una denuncia, purtroppo non è arrivata e il problema esiste ancora, sta lì, mi auguro che il nuovo governo voglia affrontare questo problema ma cercando di far fare le revisioni alla motorizzazione che invece va alla ricerca di altri compiti quando invece questi li ha delegati ai privati. La corruzione è un fenomeno che sembra dilagare nel nostro paese con fatturato anno di 60 miliardi, pari al 4% del PIL secondo le stime della Corte dei Conti. Sull'argomento ci sono espressi anche Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione, e l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe. Sono convinto che una buona trasparenza rappresenta lo strumento migliore per evitare fatti corruttivi. Quanto più le vicende sono note, dai bandi di gara alle aggiudicazioni, alle varianti, quanto tanto più è difficile pensare che su quelle operazioni si possano fare attività corruttive. Prima di essere problemi amministrativi o economici, non possono prescindere da questa che è la dimensione fondamentale, perché riguarda il comportamento, l'agire e quindi anche una visione della società e dell'uomo, perché se si prescinde da questa dimensione fondamentale poi si costruisce sulla sabbia e allora tutte anche le progettazioni potrebbero anche essere interessanti, però mancano di quel fondamento su cui costruire uno sviluppo sociale e comunitario della nostra gente.